Abbiamo approvato il miglior bilancio possibile nelle condizioni date, che non consentono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e le spese per investimenti. In attesa del giudizio di parifica per il rendiconto 2016, ci auguriamo di poter superare queste difficoltà e poter successivamente procedere in una manovra integrativa. Così il Presidente del Consiglio regionale, Vito Santarsiero, commenta l'approvazione della manovra finanziaria per il 2018. Superiamo, intanto, aggiunge, la gestione provvisoria, estremamente penalizzante. Era questo l'obiettivo primario che avevamo e nonostante i vincoli si è riusciti ad inserire nel bilancio approvato provvedimenti di grande importanza. Meritano una sottolineatura i provvedimenti nel settore della forestazione, dei trasporti, per la disabilità e altri servizi sociali, per l'università e la ricerca. Superiamo un momento di grave difficoltà finanziaria, conclude Santarsiero, auspicando l'impegno nella parte finale della legislatura per il raggiungimento di importanti obiettivi programmatici in materia di sanità, scuola, trasporti e per la maggiore autonomia richiesta ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione.